E' il momento della corsa Trisquarte Quinte, in un'edizione abbastanza inedita sul miglio con la macchina, mentre di solito si corre con i nastri almeno sul doppio chilometro se non nella distanza maratona dei tre giri, sono comunque in 15 partenti 13 effettivi perché ci sono stati due ritiri, Viperina Spin e Biruleo, questo è lo schieramento, uno winner best, due zar parlante tre brezza dei venti, quattro bianco cipriani, cinque buffalo wise in seconda linea sette penna bianca orso, otto zurro zetelle, nove zilli, dieci zaffiro trio, undici giochi, dodici victory ru tre b in terza fila, tredici ecco qui, quattordici, zali pan, in chiusura, favori per ecco qui Alessandro Gocciadoro numero 13 al debut in Italia, castrone finlandese, macchina che accelera e stacca c'è subito l'errore del numero dodici, victory ru tre b, mentre per il comando brezza dei venti, numero due zar parlante, squalificato e va a condurre, vediamo chi riesce ad accodarsi nella sua scia, bianco cipriani riesce a sistemarsi in seconda posizione avanti a winner best così brezza dei venti al comando, completa i primi duecento in quindice e quattro c'è intanto l'errore di... numero tredici, ecco qui, squalificato ecco qui, quindi esce di scena il favorito debuttante, quindi in vantaggio brezza dei venti nei confronti di bianco cipriani winner best, poi in quarta posizione lungo la corda c'è penna bianca ors mentre i cavalli all'esterno sono condotti da Buffalo Wise AS che cerca gradualmente di risalire trascinandosi Zaffiro Trio, poi anche Zalipan all'esterno intanto primi 600 che se ne sono andati in 46 e gli 800 ora in 1, 1 e 2 si affronta la penultima curva con brezza dei venti sempre in vantaggio la seconda posizione per bianco cipriani, all'esterno nessuno riesce per il momento a migliorare terza posizione quindi per winner best seguito da penna bianca ors se ne è andato intanto un chilometro nell'ordine dell'1 e 15 e mezzo numero 14, la squalifica anche per Zalipan, tentativo di progressione da parte di Zurro ZL ma intanto i primi hanno fatto praticamente il vuoto con brezza dei venti che si è staccati in avanti nei confronti di bianco cipriani e winner best primi tre praticamente che si erano infilati subito nelle prime posizioni e retta d'arrivo con brezza dei venti che controlla la situazione e viene a vincere ancora nettamente secondo posto per bianco cipriani al terzo winner best per il quarto vediamo è una lotta fra il numero 7 penna bianca ors e il numero 9 Zilli che finiscono praticamente a contatto 1 15 e 4 il raguaglio conclusivo con 29 e 7 a chiudere praticamente si è limitata brezza dei venti a fare percorso poco più di due minuti sono bastati per vincere agevolmente questa corsa Maurizio Cheli per conto di Michela Racca per la scuderia del signor Roberto Mantia bella vittoria quindi per brezza dei venti che una volta al comando non si lascia più avvicinare secondo posto per bianco cipriani al terzo winner best poi ci sarà foto probabile per il quarto fra il numero 9 Zilli e il numero 7 penna bianca ors finiti molto molto vicini quindi aspettate per il quartè e il quintè è tutto per questo convegno di corse dell'arcoveggio l'appuntamento è per giovedì prossimo grazie a tutti 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 grazie a tutti